tempo di peperoni friarelli delle macchie delle coserie che c'è di meglio che gustarli la sera proprio così si prendono da campo dopo che sono stati arrostiti su una griglia con un po più giusto giusto un goccio d'olio e con di più e si possono mangiare interi così si gustano che una meraviglia i friarelli sono di qualità sia quella piccante che quelli dolci questi sono quelli dolci e come sangue un po di piccante per aggiustarlo un po provate friarelli li potete mangiare vedete senza pelar l'importante non farli completamente bruciare che potete tranquillamente mangiare provate